buongiorno oggi parliamo di allergia perché date le condizioni climatiche abbiamo avuto un picco improvviso e quindi siamo tutti con i sintomi che facciamo un po fatica a gestire noi per l'allergia vi proponiamo questa miscela che si chiama aromatherapy allergia questa è una miscela specifica per i sintomi allergici quindi a funzioni decongestionanti antistaminiche e grazie proprio agli oli essenziali contenuti che sono eucalipto radiata mirto verde e saro il saro è l'olio essenziale che ha queste spiccatissime proprietà antistaminiche che aiutano a placare i sintomi e come si utilizza questo si utilizza molto semplicemente mettendo le gocce nel diffusore quindi noi mettiamo l'acqua 15 20 gocce accendiamo la candelina e dobbiamo tenerla accesa per almeno mezz'ora anche due volte al giorno si può tenere proprio in diffusione tra l'altro un profumo veramente molto gradevole oppure si può utilizzare nella fase acuta quando il sintomo si presenta e si può utilizzare in questo modo con lo stick olfattivo quindi noi mettiamo le goccine sul tampone lo inseriamo qua all'interno dello stick e poi lo inaliamo più volte al giorno proprio facendolo passare sotto il naso quando si presentano i sintomi si può mettere se non abbiamo lo stick anche una si possono mettere uno due goccine sul fazzoletto e si inala è molto semplice questo si fa quando proprio sentiamo lo starnuto gli occhi che lacrimano quindi tipici sintomi allergici ed è un valido aiuto che non ha controindicazioni quindi è molto molto utile in questo periodo grazie a tutti al prossimo video